Angolo retto diviso in tre parti uguali. Dato l'angolo retto AVB, con raggio piacere fare centro in V e descrivere un arco che taglia le due semirette nei punti C e D. Con lo stesso raggio centrare in C e trovare F, quindi centrare in D e trovare E. Tracciare le semirette uscenti da V e passanti per E e F. Dividono l'angolo retto in tre parti uguali.